Ritornano gli appuntamenti con la grande musica e gli spettacoli del Teatro La Fenice di Venezia per il territorio di Chioggia, Cavarzere e Kona. Conferenze sui grandi compositori italiani, proiezioni cinematografiche delle più amate opere liriche, concerti musicali, recita lirici, lezioni di musica per le scuole. Sono gli appuntamenti che contraddistinguono il programma di questa edizione primaverile dell'Opera Metropolitana. Il calendario della manifestazione, che si svolgerà tra i mesi di marzo e maggio, prevede i seguenti incontri. Chioggia, Palazzo Grassi, martedì 28 marzo, conferenza sulla traviata di Giuseppe Verdi. Martedì 18 aprile, proiezione cinematografica della traviata di Giuseppe Verdi. Cavarzere, Palazzo Danielato, mercoledì 26 aprile, conferenza sulla norma di Vincenzo Bellini. Giovedì 4 maggio, proiezione cinematografica sulla norma di Vincenzo Bellini. Chioggia, scuola secondaria Silvio Pellico, giovedì 20 aprile, lezione concerto riservato alle scuole. Cavarzere, Teatro Tullio Serafin, domenica 7 maggio, recita al lirico degli artisti del Teatro La Fenice. Chioggia, Auditorium San Nicolò, sabato 27 maggio, concerto per pianoforte con Alex Strolese. Gli incontri proposti sono aperti al pubblico, gratuiti, ad eccezione dei concerti che prevedono un biglietto d'ingresso di 7 euro. L'Opera Metropolitana è una manifestazione organizzata dal Teatro La Fenice di Venezia, in collaborazione con Fondazione di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, Città di Chioggia e Fondazione Claudiense Onlus. L'Opera Metropolitana di Venezia